In questo video vedremo uno sguardo generale di quello che è Google Classroom. Ricordo che Google Classroom è l'unico applicativo non presente in un normale account Gmail. Quindi, nell'ipotesi che una scuola volesse utilizzare le Google Apps for Education con dei normali account Gmail, sappia che oltre ai limiti in termini di gigabyte dello spazio presente su Drive, la mancanza più grande in termini didattici è proprio questa, Classroom. Oltre, ovviamente, tutto il pannello di amministratore che si avrebbe nell'ipotesi di una attivazione completa delle Google Apps for Education. Una volta fatto il login, basta scrivere nel browser classroom.google.com e ci si ritrova nelle proprie classi. Ecco, qui vedete una serie di mie classi reali, vale a dire che ho quest'anno, poi una serie di classi di prova, qui individuabile proprio dal nome, e poi delle classi dell'anno scorso. Le ho lasciate volontariamente in questa visualizzazione perché è molto comodo utilizzare la funzione Archivia per relegare tutti i contenuti di questa classe in una sezione specifica del proprio spazio, di modo da non far confusione con le classi dell'anno in corso. Allora, cominciamo a vedere. Queste classi innanzitutto vengono chiamate con un termine piuttosto infelice, lezioni, non sono quello che in Italia chiamiamo lezioni, sono delle vere e proprie classi, a tutti gli effetti. In alto a destra c'è ovviamente la nostra utenza, in alto il dominio, che il nostro caso è liceosansepolcro.eu, col menu invece a sinistra si possono navigare tutti quanti le classi in oggetto. Allora, prima di vedere come si crea una classe, vediamo come è composta. Io entro per ora nella classe di prova. Ecco, vedete che c'è un'interfaccia molto semplificata, un'immagine di sfondo, che viene chiamata tema, che io posso modificare in qualunque momento. E' presente, ecco, qui vedete una galleria, ora proviamo a mettere il tema della chitarra e in breve viene modificato. Ecco, come vedete, Classroom, la classe, è fatta di tre parti. Stream, che è quello che useremo di più, cioè il flusso di lavoro. Gli studenti, che in questo caso sono stati due, due studenti di prova, due utenze virtuali, docente, prova, studente tipo. E poi informazioni. Informazioni non si userà quasi mai. In queste informazioni possiamo scrivere, ad esempio, dove si trova una determinata classe. Questo ha più che altro senso nel mondo anglosassone, dove sono più che altro gli studenti a muoversi piuttosto che non i docenti. Torniamo su Stream. Ecco, da Stream noi possiamo creare tutti i nostri compiti. Qui innanzitutto ne vedete alcuni già creati. Questo è un compito di prova su delle citazioni, questi sono degli appunti, questo è un questionario e via discorrendo. Per creare un compito basta cliccare su più. Ecco, l'interfaccia, recentemente modificata, propone di riusare un post già utilizzato. Questo è molto utile nell'ipotesi che si proponga un modello di compito ricorrente, relazione, riassunto. In quel caso basta riusare un post vecchio. Un questionario, che è piuttosto semplificato in realtà. Quello che useremo di più è Crea compito o Crea annuncio. Allora, partiamo da quest'ultimo perché è molto più semplice. Su Crea annuncio, cliccando, il Classroom ci propone l'annuncio da scrivere. Qui possiamo scrivere, per esempio, domani portare testo di poesia. Possiamo, come vedete, inserire un allegato, un allegato dal nostro drive, un video di YouTube o un link. E scegliere la classe di tutte quelle che ho che dovrà ricevere questo annuncio. Molto comoda questa funzione perché se è un annuncio che vale per tutti, io lo scrivo una sola volta e lo abbino a più classi. Cliccando su Pubblica, ora scriviamo semplicemente Prova, cliccando su Pubblica, ecco qui, pubblicazione in corso, come vedete, ecco qui l'annuncio. Ecco qua. Ora, se gli studenti hanno installato l'app di Classroom o semplicemente attivo Gmail nel proprio telefono, avranno ricevuto la notifica sotto forma di mail. In questa mail c'è scritto il docente XY ha fatto questo annuncio. Questo, diciamo, è l'uso più semplice. Da questi tre puntini posso evidentemente modificare, eliminarlo, non me lo fa spostare in cima perché questo, nello specifico, è già in cima. Gli studenti, come vedete, possono aggiungere un eventuale commento a questo. Io posso stabilire se gli studenti possono commentare o se non possono commentare, ma lo vedremo dopo. Andiamo poi su Compito. Crea Compito. Ecco l'aspetto più interessante. Allora, come vedete l'interfaccia è molto simile. Nella prima parte c'è scritto Titolo del compito. Immaginiamo di far fare ai ragazzi un compito, una relazione su un video che loro dovranno vedere. Per esempio, scrivo relazione su Roma Antica. Qui in basso descrivo il compito. Possiamo effettuare una relazione di una pagina inserendo gli aspetti del documentario non presenti nel libro di testo. In questo modo, peraltro, i ragazzi possono anche esercitarsi a vedere le differenze tra quelli che sono eventualmente i contributi presenti su il libro e i contributi presenti su il video. Nel frattempo, mi avete visto fare una breve ricerca su un video di YouTube. Io qui ho scelto questo documentario di 55 minuti, Gli Ingegneri di Roma Antica. Salvo quindi il link. Copia. A questo punto, inserisco tramite l'icona di YouTube l'URL, cioè l'indirizzo che ho appena selezionato, e vado su Aggiungi. Come vedrete nello stream, nel flusso, ecco qui, è stato già inserito il video. Ora, posso presupporre che i ragazzi creino da soli un documento su cui scrivere il riassunto, la relazione, oppure posso proporre io ai ragazzi un modello di documento. Nel caso specifico, io mi comporto così, cioè creo un documento che poi è ricorrente, lo salvo nel mio Drive, e infatti vedete qui che c'è la funzione Drive. Io clicco su Drive, e ora il sistema mi dice quale dei miei tanti documenti presenti su Drive io voglio inserire. Abbiamo fatto i lavori sull'arte contemporanea, su Machiavelli. Quindi, in questo caso mi serve un modello relazione o riassunto, che è un modello generico. Io lo aggiungo, ecco qui, vedete che è stato aggiunto. Se io lo clicco, vedrete che ora comparirà questo modello, che è molto semplice. Nome della nostra scuola, relazione o riassunto, titolo, eventuale immagine, quindi un documento. Questo documento viene redatto direttamente su Google Documenti, quindi non si usa Word, non si usa altro. Si usa Google Documenti. Torniamo al nostro flusso. Questo è importantissimo. La piattaforma mi chiede, gli studenti possono visualizzare soltanto il file che hai messo, oppure possono modificarlo, o, ed è la cosa più importante, crea una copia per ogni studente. In questo caso succede che il sistema provvederà a creare per ogni studente un file identico, e quando gli studenti avranno terminato questo lavoro, questi file identici saranno automaticamente tutti schedati dentro una cartella apposita che Classroom provvederà a creare e avrà il nome di relazione su Roma Antica, e tutti i loro compiti saranno tutti ordinati dentro questo tipo di cartella, senza che il docente debba ricevere via mail documenti, magari diversi tra loro. L'ordinamento dei documenti è veramente la cosa migliore di Classroom. A questo punto, dopo aver controllato tutto, io posso stabilire una scadenza, poniamo, che so, 30 ottobre, eventualmente un orario, salvo. Posso inserire anche altro, per esempio posso allegare un altro documento che non è su Drive, posso inserire un eventuale altro video, posso inserire anche un link, magari un link a una relazione che possa fare da modello a quella che i ragazzi devono svolgere. A quel punto io vado su Assegna, prima anzi di andare su Assegna, stabilisco le classi a cui questo lavoro debba essere rivolto, può essere più di una, scelgo le mie classi e poi vado su Assegna. Dopo qualche istante il compito viene assegnato. Ecco, ora in cima non c'è più quell'annuncio che abbiamo fatto prima, c'è un vero e proprio compito, relazione su Roma Antica. Ovviamente 0 sono completati perché l'ho appena creato, 2 non completati in quanto questa classe, diciamo virtuale, questa classe di prova è fatta da due studenti. Mano a mano che gli studenti compileranno, io in tempo reale potrò vedere i loro progressi su questo tipo di lavoro. Ora vediamo invece casi reali. Per muoversi dentro Classroom, io uso questo menu, vado in una classe reale, ecco, quelli che vedete sono dei compiti reali, vale a dire compiti che gli studenti effettivamente eseguiranno. Per esempio questo, la competenza comunicativa. In questo caso io ho stabilito che solo un piccolo numero di studenti deve produrre un documento su questo argomento che poi possa essere utile a tutta la classe. Quindi in questo caso non ogni studente riceverà una copia, anche se materialmente questa è l'ipotesi che qui vedete specificata. Qui soltanto due, tre o quattro studenti riprenderanno l'argomento dello scorso anno, ne creeranno un riassunto che sarà poi utile e disponibile per tutti. Poi, in questo caso ho un annuncio, vedete qua, annuncio. Questi giorni sono i giorni del Cinema Days, nella nostra città viene proiettato un film che ha un'importante ricaduta didattica, Turner. Ho creato un annuncio in cui c'è il link ai Cinema Days e la recensione del film e poi semplicemente il trailer del film. Un altro annuncio sul Cinema Days e su quello che è l'evento che sconta il biglietto del cinema. Altro annuncio, questa è una mostra che si tiene dalle nostre parti sui macchiaioli, in un paese in cui abitano molti ragazzi. Ecco, questo è ora, la poesia e alcune riflessioni personali, un compito particolarmente interessante. Vedete, è piuttosto semplice. Io ho inserito dei video, presenti in rete, ora li vedremo, di Valerio Magrelli, sul tema della poesia. E poi ho scritto, dopo aver visto i seguenti video, esprimi le tue considerazioni in relazione alle riflessioni del poeta Magrelli. Quindi, per prima cosa, ho inserito un link a un video. Cliccando, infatti, come vedrete, si va a una piccola sezione della trasmissione, Quello che non ho, in cui Valerio Magrelli fa un suo intervento sul tema della poesia. Un altro documento, sempre di Valerio Magrelli, questa volta è presente nel sito della RAI, ed è un intervento di Magrelli di diversi anni fa, credo 1999, in cui incontra dei ragazzi del liceo Mamiani di Roma. Un bel incontro sul tema della poesia. I ragazzi devono vedere questo video di 27 minuti, che ora mettiamo in pausa. Ecco qui, Cantare il mondo, la poesia. Valerio Magrelli al Mamiani di Roma. E poi, devono aprire questo documento, che io ora apro, nel che io ho predisposto per loro, non a caso c'è la foto del poeta, e nel quale loro devono semplicemente e liberamente esprimere le loro opinioni. Il documento l'avevo composto io per loro, come vedete è un file di testo molto semplice, titolo, foto. Dopo aver visto i seguenti video che io qui per ridondanza ho reinserito, scrivi le tue considerazioni personali. Ora vediamo, ho naturalmente specificato che ogni studente deve ricevere una copia, vediamo quello che è successo. 11 non completati, 5 completati, perché alcuni ragazzi lo hanno consegnato in cartaceo. Io clicco sui 5 completati, mi compaiono i ragazzi che lo hanno fatto, io clicco sul loro compito, ed ecco che noterete che c'è il loro specifico compito con le loro riflessioni personali. Ecco qua. In questo testo io posso apportare per esempio dei commenti, selezionando, tramite la funzione commenta, ecco qui, posso eventualmente fare un commento su questo video. Allo stesso tempo posso andare in un altro documento svolto e anche qui, come vedete, il documento non è più vuoto, ma è composto con le riflessioni personali dei ragazzi. In questo caso c'è una piccola imprecisione, Roman Jacobson, viene definito traduttore, naturalmente non è un traduttore. Ecco qui. Poi, come vedete, io posso, da questo pannello della parte sinistra, anche stabilire come è un compito ormai svolto, posso restituirlo con o senza valutazione. La valutazione può essere in centesimi, vedete, ma può essere fatta anche su altre scale oppure senza voto. Una volta che io ho messo il voto se voglio, ho messo il commento se voglio, clicco su restituisci e quel compito ritorna ai ragazzi. Nel momento in cui il compito è stato consegnato, come vedete ora, il compito da parte dei ragazzi non può essere più modificato. Nel momento in cui invece il docente lo restituisce, magari chiedendo integrazioni, modifiche o correzioni, ed è questo il lato interessante, cioè si dice ai ragazzi dove hanno sbagliato, ma non cosa hanno sbagliato, i ragazzi a quel punto, solo a quel punto, possono modificarlo. Ultima cosa. Come vedete, anche in questo caso, la classe è divisa in stream, studenti e informazioni. Abbiamo detto stream è la nostra area di lavoro, studenti è l'elenco dei nostri studenti, e informazioni è la parte che, ripeto, a noi interessa di meno, che dà informazioni tecniche su dove sia la classe. Se andiamo su studenti, qui c'è un menu a tendina nel quale possiamo scegliere che gli studenti possono aggiungere commenti, aggiungere materiali, o solo l'insegnante può farlo. Qui, secondo me, è il caso di dare la massima libertà agli studenti, anche di caricare loro dei materiali. Questo perché l'apprendimento cooperativo significa proprio che uno studente o un gruppo di studenti producono un materiale che poi è a vantaggio, è a pannaggio di tutta quanta la classe. Non abbiamo detto qualcosa sulla parte sinistra, ma è molto semplice. Allora, nella parte sinistra in alto c'è una specie di post-it con le ultime scadenze. Nella secondo stream si può chiedere di togliere dalla visualizzazione gli elementi eliminati per una questione di chiarezza. e poi, ecco, questo è interessante, codice corso. Come fanno gli studenti a entrare in questo corso? Naturalmente devono essere utenti autenticati nel dominio, quindi devono avere un account Google Apps for Education. Poi si dà loro un codice, che è questo, che è un generato automaticamente alla piattaforma, e in quel caso i ragazzi, andando su classroom.google.com dopo aver fatto il login, inseriscono questo codice e si trovano automaticamente dentro. Un'altra procedura da studenti è questo, vedete, invitare tramite nominativo, però è una procedura meno pratica. Vediamo poi un altro caso, per esempio questo, classe quinta. Ecco, come vedete, in questa classe quinta i ragazzi saranno chiamati a fare un lavoro molto simile a quello che avete appena visto. Si tratta di vedere un video sulla vita di Gabriele D'Annunzio, eccolo qua. di circa un'ora, e per il quale io ho allegato un modello di relazione o riassunto, cliccando il quale possiamo vedere questo documento, che è quello sul quale i ragazzi andranno a lavorare. Come vedete, è neutro, in modo tale che possa riusarlo per varie scopi. E questa è l'indicazione. Segui con attenzione il documentario sulla vita di annunzio e prendi nota di almeno cinque aspetti che ritieni insoliti o particolarmente significativi della vita di un artista. Questa, naturalmente, è la consegna, ma potevano esserci molto altre, molte altre. Oh, questo che vedete sotto è un altro caso di collaborazione. Esercizio sulla scapigliatura. Ho diviso la mia classe in tre gruppi. I primi sei ragazzi si occupano di un racconto di Tarchetti, gli altri sei di un altro, gli ultimi di un altro. Ogni gruppo, in gruppo o in singolo, produce un riassunto e una riflessione. Tutti lo caricano. Alla fine, un gruppo avrà letto solo un racconto di Tarchetti, ma ogni gruppo avrà la relazione di tutti gli altri, quindi avrà una percezione un pochino più ampia dell'autore. In questo caso ho inserito un link. Questo link ospita all'interno alcuni dei racconti fantastici di Tarchetti. Ho inserito il solito modello relazione riassunto. Eccolo qui. E qui i ragazzi dovranno appunto inserire le loro considerazioni, che saranno composti di riassunto prima e considerazioni di natura letteraria nell'altro. Come vedete anche in questo caso c'è l'annuncio del film su Turner che avete visto anche nell'altra classe, il che vuol dire che l'ho inserito una volta sola e in più casi però compare perché all'atto della pubblicazione io ho selezionato più classi. Ultima cosa anche in ottica Flipped Classroom qui io ho dato dei materiali di ripasso ma anche abbastanza simpatici su Verga. Sono come vedete solo un annuncio non c'è compiti da svolgere. Abbiamo svolto questo argomento il sito Repetita Treccani produce dei video abbastanza divertenti sui vari autori che sono molto utili in termini di ripasso qui ho semplicemente inserito quattro link se infatti clicco su questo che poi è quello che vedono i ragazzi compare il video di Repetita Treccani in questo caso sulla vita di Giovanni Verga può essere un utile strumento di ripasso in questo caso è un semplice annuncio quindi non è una vera scadenza di conto Cinema Days di nuovo ci tornerà nel 1869 per restarci un paio di anni questo è il funzionamento diciamo di base di classe quindi di nuovo rapidamente nella visione qui viene chiamata lezioni abbiamo le classi entrando in ciascuna classe siciliana per questo decide di stabilire un compito tramite più e si può inserire anche un annuncio un questionario in realtà molto semplice e riusare un post in questo periodo tramite il codice si possono inserire i ragazzi questa operazione va fatta una volta durante l'anno perché è il suo primo successo e tramite il menu studenti noi possiamo stabilire i ruoli dei ragazzi se possono essere autori di contenuti con la quale ha una relazione per molti anni nel 1872 Berga si sposta a Milano dove risiede quasi stabilmente per